Ok ragazzi, siete Vladimir Vladimirovich Putin e a un forum economico internazionale lo sceicco, anzi che dico lo sceicco, il monarca del Kuwait, vi regala un fantastico quadro. Questo. E con dei portafortuna così benauguranti nella vostra economia, che cosa potrà mai andare storto? In altri video abbiamo visto come, secondo la propaganda filorussa, Putin è un vero e proprio genio. Ma la realtà, tristissima, soprattutto per i russi, è che la loro economia sta andando allegramente a bitpane. Infatti, non solo i tassi di inflazione, pure quelli farlocchi, devono comunque essere rivisti al rialzo dal governo russo. Non solo le famiglie con i figli nel 70% dei casi sono in povertà, e più precisamente al 20% sono in povertà assoluta, fanno fatica ad acquistare qualunque cosa oltre al cibo e all'abbigliamento e nel 50% dei casi fanno fatica ad acquistare elettrodomestici ed elettronica di consumo. Ma addirittura, adesso, l'economia russa, che dipende almeno per un terzo da forniture cinesi, non riesce neanche a gestire i rapporti economici con il principale partner senza limiti. Anche se, a voler ben guardare, Xi aveva detto che l'amicizia fra russi e cinesi era senza limiti. Sui rapporti economici non si è mai pronunciato. E infatti le banche cinesi, non appena gli Stati Uniti hanno iniziato a sanzionare chi trafficava con le imprese russe soggette a loro volta a sanzioni, hanno iniziato a mettere dei paletti ben precisi e assolutamente invalicabili. Mentre prima, circa fino a un anno fa, sei mesi fa, si poteva fare letteralmente di tutto e gli istituti finanziari cinesi non si facevano scrupoli a ricevere pagamenti in rubli, a vendere dollari, insomma, a eseguire ogni tipo di operazione possibile e immaginabile con i partner russi, da un certo punto in poi, circa sei mesi fa, i cinesi hanno notato che gli americani erano propensi a sanzionare gli istituti finanziari che trattavano con imprese che aiutavano lo sforzo bellico russo e quindi hanno iniziato a dire caspita, ma se gli Stati Uniti bloccano il flusso di dollari nei nostri confronti, noi cosa facciamo? I russi quindi hanno dovuto iniziare ad appoggiarsi a banche molto più piccole, che svolgevano operazioni soltanto di routine e che al massimo prendevano prestiti solo ed esclusivamente dal governo cinese. Non avendo rapporti all'esterno rispetto alla Cina, il problema non si poneva. Ma anche queste banche devono avere rapporti con gli istituti finanziari maggiori. E gli istituti finanziari maggiori, qualche mese fa, hanno iniziato a stringere i cordoni proprio per timore delle sanzioni americane. Salve errore da parte mia, qualche impresa cinese, qualche istituto finanziario cinese, è stato effettivamente sanzionato dagli Stati Uniti. E dato che la stragrande maggioranza dei commerci avviene ancora in dollari, perdere la possibilità di approvvigionarsi in dollari significa perdere una buona fetta di affari. E detto fra di noi, le banche cinesi fanno tanti affari con gli Stati Uniti, tanto con il governo statunitense, ogni volta che acquistano debito per l'appunto statunitense, quanto con le imprese private. Posto che, come abbiamo visto in un altro video, in questo periodo le imprese cinesi non sono poi tanto redditizie. E quindi, se devi investire da qualche parte, è meglio farlo all'estero. In parole povere, comunque, queste banche, prima di svolgere operazioni con la Russia, fanno dei controlli molto, molto approfonditi. Con la conseguenza che i pagamenti non sono esattamente immediati, ma anzi, possono avvenire anche a distanza di settimane, settimane, settimane. E se per noi, poveri cittadini, è una scocciatura vedere accreditati qualche centinaio, o anche qualche migliaia di euro dopo due, tre, quattro settimane, immaginatevi quale deve essere la situazione per delle imprese russe che devono riscuotere l'equivalente di milionate e milionate di euro più o meno ogni giorno. Avevamo già accennato a questo problema qualche giorno fa in un altro video, ma non avevamo approfondito abbastanza la questione. Lo facciamo ora. Innanzitutto, per via delle sanzioni, molte imprese russe o commerciano con la Cina o non commerciano affatto. Per cui, per prima cosa, i russi, nell'arco di questi 900 giorni, hanno intensificato i rapporti con la Cina. Hanno sottoscritto contratti, mandano forniture dei beni che producono, principalmente, guarda caso, petrolio, gas, legname, materie prime, e si aspettano di essere pagati, non c'è molto altro. Effettivamente, questi crediti li hanno, ma le banche cinesi non li liquidano. E se non ti liquidano, tu non hai denaro da spendere. Oltretutto, i cinesi si aspettano di essere pagati in yuan, che che ne dicano gli amici filorussi, il rublo non solo ha perso buona parte del suo valore, quantomeno per noi europei ed americani, ma è anche diventato potenzialmente radioattivo. Se vieni pescato a trafficare in rubli, corri il rischio di incorrere in sanzioni secondarie. Quindi, la tua banca pagamenti in rubli non li accetta, la tua banca cinese, sto intendendo. D'altro canto, la banca cinese non ti vende neanche yuan, che pagheresti sempre e comunque in rubli. Quindi, il problema è sempre quello. Quindi, come puoi procurarti gli yuan? Una parte li puoi scambiare proprio sfruttando le riserve della banca russa, della banca centrale russa. Ma una volta che queste riserve sono ridotte, devi affidarti a piccole imprese di cambi esterni. Non esattamente piccole. Però, diciamo che c'è gente in Turchia e in Arabia, anzi, ci sono delle imprese in Turchia e in Arabia, che possono fornire questo servizio. Ma anche loro i rubli li toccano fino a un certo punto, perché ovviamente i dollari li puoi spendere ovunque. I rubli, ripeto, sono radioattivi. Ne puoi mettere da parte un po', però dopo che cosa te ne fai? Oltretutto, Zio Vlad stesso aveva posto dei limiti al cambio dei rubli. Quindi prenderli vuol dire non essere sicuro di poterli poi rivendere o scambiare con qualche altra moneta. E naturalmente anche questa insicurezza ha un costo. Le agenzie che si occupano del cambio, questo costo lo scaricano sui clienti. Ora, facciamo un esempio per capire quanto sia difficile questa situazione per la Russia e per i russi in primo luogo, e poi un pochino anche per le imprese cinesi che pensavano di prendersi e portarsi a casa le fette di mercato lasciate libere dagli imprenditori occidentali, sempre in territorio russo. Prendiamo per esempio il segmento, anzi il mercato dell'automobile. Salve errore da parte mia, tutte le imprese occidentali hanno abbandonato il mercato russo, hanno sacrificato le loro industrie, le loro fabbriche in loco, e questo spazio è stato più o meno colonizzato, con molti limiti che abbiamo analizzato in un altro video, dai cinesi. Ora, le industrie cinesi sono andate all'arrembaggio del mercato russo, hanno venduto di tutte e di più, dalle patacche alle auto effettivamente di lusso. Più patacche che auto di lusso, perché, come abbiamo visto, la disponibilità del russo medio non è elevatissima, quindi chiaramente le automobili che piazzi in Russia sono i modelli base, i modelli più economici e via discorrendo. Lo stipendio russo di una persona che lavora a San Pietroburgo, a Mosca, cioè le due città più care e anche più ricche, spazia di media fra i 600 e 800 euro equivalenti, è pochissimo, guadagni molto di più se fai il militare o lavori nell'industria bellica, ma questo è un altro discorso. Il punto è che, dopo aver piazzato queste auto a prezzi più o meno stracciati, non sei in grado di convertire i pagamenti dei russi, che sono in rubli, in yuan. E quindi, tu che hai un'industria automobilistica in Russia e vieni pagato in rubli, che cosa te ne fai di sta carta straccia? I tuoi operai cinesi e i tuoi fornitori, principalmente cinesi, magari di mezzo mondo, non li puoi mica pagare in rubli, perché ovviamente ci sono le sanzioni. Per di più, se malauguratamente qualcuno avesse la mezza idea di controllare i tuoi movimenti bancari e finanziari, c'è anche il rischio che gli Stati Uniti d'America o qualche altra nazione occidentale sanzionino la tua banca. E la tua banca non vuole essere sanzionata, quindi pagamenti in rubli non te li accetta. E viceversa, analizziamo anche quello che è successo alla più grande società mineraria russa, specializzata nell'esportazione di nickel e palladio. Ecco, questa società si chiama Norm Nickel. Quindi, se sei tu l'importatore diretto, il problema del cambio è già tuo aborigine. Se invece ti affidi a degli intermediari che fanno da importatore in tua vece, devi aspettare che loro ti paghino e superino quel problema. Problema che naturalmente ha un costo ulteriore per loro e che può ritardare ulteriormente i tuoi pagamenti. E se c'è una cosa che fa innervosire i cinesi, sono i ritardi nei pagamenti, sappiatelo. Bene, questo problema non ce l'hanno soltanto gli importatori cinesi, gli esportatori cinesi, scusate, ma ce l'hanno anche gli esportatori russi. Prendiamo per esempio Nickel Horn o qualcosa del genere, lo so, ho pochissimo rispetto per queste società, tanto vanno e vengono. In questo caso stiamo parlando di un colosso minerario russo, il cui core business è la vendita di nickel e di palladio. Bene, questa impresa gigantesca, che era in buona salute fino a poco tempo fa, a causa delle sanzioni secondarie, non riesce a farsi pagare. È la situazione che abbiamo descritto all'inizio. Non riesce a trovare clienti perché i clienti hanno paura di essere sanzionati. Poi, tra l'altro, sono cinesi, quindi i loro calcoli, se li sanno fare benissimo, vanno da questa società e dicono, guarda, se io acquisto da te nickel e palladio, poi magari gli Stati Uniti mi fanno un bipulo tanto. Il rischio me lo vuoi scontare oppure no? E a questo punto, dato che questa società o vende ai cinesi o non vende a nessuno, perché il nickel e il palladio stranamente non interessano agli indiani, non interessano agli africani, deve dire, ok, trattiamo. Questo trattiamo con i cinesi significa uno sconto pronti e via del 22% su ogni tipo di metallo. Sono soldi in meno che entrano. E in più, naturalmente, questo metallo deve essere venduto in yuan, ma gli yuan non te li danno direttamente, devi passare dall'Arabia Saudita, dalla Turchia, da qualche nazione con lo Stan. E questo tipo di pagamenti ti costano un altro 6% in più in commissioni. Commissioni che, naturalmente, i cinesi non ti pagano e non ti scontano. Quindi, non solo gli sconti a loro il 22% sul prezzo dei metalli, ma il 6% di spese di commissioni in più fisso, quando ti va bene. Per cui le tue entrate sono ridotte di almeno un 28%. Un terzo in meno. Per intenderci, la Cina vuole essere pagata soltanto in yuan. Per lei il rublo è radioattivo, ok? E Xi non ha voluto negoziare con il genio di Zio Vlad questa opzione. Se vuoi, commerciamo in yuan, non in rubli. E Zio Vlad ha detto, perché no, tanto non ho altre possibilità. Bene, gli scambi fra Russia e Cina ammontano a circa 240 miliardi di dollari equivalenti in un anno. Solo nel mese di agosto, che è un mese tranquillo, i russi hanno dovuto scambiare quasi 3 miliardi di dollari equivalenti in yuan. E questa è stata naturalmente un'operazione costosa. Infatti, aumentate questa somma del 6% solo per poter commerciare per l'appunto con la Cina. Oltretutto, ragazzi, prima che gli Stati Uniti, o meglio, il governo degli Stati Uniti, annunciasse il rischio di sanzioni secondarie, in giugno, gli scambi dello stesso tipo fra Cina e Russia ammontavano a 10 miliardi di yuan. Significa praticamente, in parte c'entra anche l'estate naturalmente, agosto non è comparabile a giugno. Però significa che nell'arco di due mesi, questo tipo di attività è stato ridotto ad un terzo. Anzi, un pochino meno, a voler essere pignoli. Uno dei numerosi problemi è che a queste condizioni non conviene assolutamente commerciale. Gli imprenditori più piccoli non sono in grado di commerciare. Pensate, per esempio, ai piccoli importatori di auto di cui abbiamo parlato prima. Se non ti pagano e non puoi pagare la merce, chiaramente non vendi. I più grandi non hanno interesse a restare in un mercato dove non possono guadagnare nulla. Per cui i problemi sono seri. Ma pensate anche ai problemi per tutti i cittadini russi. La fetta di mercato russo dell'automobile, colonizzata dalla notte alla mattina, da parte dei nostri amici cici cinesi, è all'incirca del 36%, per un controvalore di circa 5 miliardi di dollari. Dollaro più, dollaro meno. Bene, se questi importatori e esportatori non hanno interesse a commerciare automobili in Russia, non hanno neanche interesse a commercializzare le parti di ricambio per queste automobili. E stiamo parlando del 36% delle automobili circolanti in Russia, o perlomeno del mercato delle automobili. È una percentuale da capogiro. Immaginatevi di non avere da un giorno all'altro pezzi di ricambio per la vostra auto. Buona fortuna! Ora, in un mondo dove non puoi utilizzare la moneta come mezzo di scambio, a cosa ricorri? In teoria potresti ricorrere al baratto. È così che facevano gli esseri umani prima ancora che venissero inventati i soldi, le monete, letteralmente. Ma il baratto era un sistema tremendamente inefficiente. E non c'è bisogno che vi spieghi il perché. Tu vendi determinati materiali, materie prime, merci, beni o servizi, ma l'altra persona ti può pagare soltanto con un determinato bene o servizio, quello che produce lui. E prima di riuscire a trovare qualcuno che produce magari cibo che interessa a te e a pagarlo con determinate modalità ce ne corre. Non per niente usiamo le monete da millenni. Ecco. Bene, questo problema ce l'hanno anche i russi e ce l'hanno anche i cinesi. Il punto è che in teoria i russi possono esportare gas e petrolio che sono sempre utili. Ma a parte quello, che altro ti possono dare? Loro producono solo materie prime e le grandi società che quelle in materie prime le acquistano ci sono già. Oltretutto, difficilmente il russo medio ti potrà pagare in gas e petrolio. Non è nella sua disponibilità. Per cui l'automobile, come te la paga? Devi ricorrere a un intermediario anche in questo campo. Ma come potete facilmente immaginare è un bitpino. Cioè, fino a quando devi scambiare materie prime di base, che so, petrolio, gas, in cambio di grano, in qualche modo ti arrangi. Ma quando si tratta di beni complessi, allora la situazione diventa tendenzialmente insostenibile. O perlomeno l'economia ne esce gravemente danneggiata. Ora, se dobbiamo mettere sui due piani l'economia russa da una parte e l'economia cinese dall'altra, è chiaro che per i russi è una vera e propria tragedia, per i cinesi è una piccola scocciatura. Il mercato russo a livello globale conta pochissimo. Quindi, cari amici filorussi, non è che Zio Vlad sia stato proprio questo grande genio dell'economia. Perché di fatto è vero che Zio Vlad, o forse Zio Vova, faremo un sondaggio per sapere come chiamarlo. Comunque sia, Putin ha sì cercato dei partner alternativi all'Occidente, e sì, probabilmente adesso esporta molto più petrolio e molto più gas di prima. Ma il fatto è che questo petrolio e questo gas, uno, vengono pagati pochissimo, due, in ogni caso, anche confidando sulla disonestà dei petrolieri occidentali che sotto banco acquistano il petrolio, adesso Putin avrà delle serissime difficoltà a portarsi a casa il suo più o meno magro bottino. Perché, molto banalmente, in questi due anni, Stati Uniti, Europa, mondo occidentale, alleanza della Nato, chiamatela come volete, ha cercato di colpire direttamente la Russia, risparmiando la Cina, perché una guerra commerciale o addirittura convenzionale con la Cina nessuno la vuole. Al momento attuale si è visto che effettivamente Putin, qualche modo per aggirare le sanzioni, lo trovava, così come lo trovavano imprenditori senza scrupoli occidentali. Per cui, adesso, da sei mesi a questa parte, più seriamente da tre mesi a questa parte, si colpiscono direttamente gli istituti di credito cinesi. Se Zio Vlad non è in grado di portarsi a casa i pagamenti, è chiaro che è finito comunque. Anzi, forse per lui la situazione è pure peggiore rispetto a prima. Bene, convincere le banche cinesi, contrariamente alle aspettative dei filorussi, non è stato assolutamente difficile. È bastato semplicemente andare da loro, o meglio, dal loro governo e avvisarli. Se vi peschiamo a fare affari con i russi, voi con noi avete chiuso. I russi pesano il 2% dei vostri affari, noi rappresentiamo il 98% dei vostri affari. In realtà non è esattamente così, perché comunque c'è anche una quota di affari, non amplissima, portata avanti e chiusa con Africa e Sud America, però concettualmente il senso è questo. Il 2% della Russia, sempre 2% resta. Anche se gli affari occidentali pesassero, per ipotesi, soltanto per il 50% o il 40% degli affari della banca, sarebbe una perdita enorme, ma così non è decisamente più elevata. Quindi le banche cinesi hanno detto, ok, stacchiamo la spina alla Russia, e questa strategia al momento sembra funzionare. Vedremo che cosa accadrà in futuro. Si prevede che gli effetti di queste sanzioni si vedranno in un periodo compreso fra i 6 e i 12 mesi. Se gli ucraini riusciranno a reggere per questo periodo, la situazione potrebbe migliorare. Anzi, e sì, ancora una volta si chiede agli ucraini di fare sacrifici, perché, come per un mucchio di altre cose, noi occidentali non siamo stati abbastanza rapidi nel rispondere alla situazione. Voi cosa ne dite? Alla fine la Russia dovrà piegarsi oppure riuscirà a vincere? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Nel frattempo ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, condividere il link al video su tutti i social che frequentate, così il canale crescerà e naturalmente lasciare un mi piace grande e grosso. Per voi sono solo pochi click, ma per il canale significano moltissimo. Quindi dateci dentro con quelle iscrizioni e con quei mi piace. Inoltre, se vi sentite eroici, ricordatevi che potete diventare Patreon, o in alternativa potete comunque abbonarvi e avere qualche servizio in più. Da questa settimana o dalla settimana prossima riprendiamo anche le riunioni più o meno redazionali in cui decidiamo cosa fare con il canale, valutiamo iniziative da prendere anche all'esterno e via discorrendo. Infine, se non farete tutto questo in un futuro alternativo, remoto e decisamente improbabile, potreste ritrovarvi con un'auto cinese nel garage e soprattutto zio Vlad che pretende di essere pagato in yuan. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto!